Allora, oggi avventura forse sulla neve. Siamo a San Bernardo di Mendatica e adesso ci arrampichiamo fino al Colle del Garezzo. Da lì l'idea è quella di andare sul fronte e poi scendere da questo lato sul sentiero dei Cechi. Continuiamo poi fino a Mendatica con un altro sentiero. Proviamo. Vediamo un po' perché ci saranno 4 gradi qua adesso e c'è aria. Siamo arrivati in vista del fronte. Si vede la madonnina lassù. Eccola là. C'è giusto una spruzzata di neve non dovrebbe impedirci di arrivare fino in cima. Vedremo poi sulla strada come messa. Fa freddo, al sole si sta bene ma nelle parti coperte la temperatura è molto bassa. La fregatura che c'è un po' di vento è quello da fastidio. Mi sa che non c'è più pozzanghere, c'è solo del ghiaccio. Comunque laggiù siamo arrivati alla Galleria del Garezzo. Tra un po' cominciamo a salire per le fronte. Sì. E' semplice vedere il panorama da sopra la Galleria. Se non lo io non li vado a girare. Sono a parte di Triona. Sono sopra la Galleria del Garezzo. Peccato per il vento perché la giornata si sta bene. Questa è la strada che ho fatto per arrivare qua alla Galleria del Garezzo. Lì sotto c'è la Galleria. Ok, me ne scendo solo che sto morendo. Che sfreddo. Ale, proviamo a andare sul fronte. Ecco, vedete com'è spaccato il terreno. Qua è un po' un casino pedalare. Sì, è dietro la cuba più avanti, giusto? Ma noi la vetta ce la vogliamo guadagnare. La Madonnina. Così vicina e così lontana. Diciamo avere dei dubbi di andare su o di girarci indietro. Perché c'è... è veramente freddo. Ecco. No, dopo che parla è lì. Dobbiamo fare ancora così, così. Non ci si trova. No, ma noi che... Vediamo, sarà durissimo. Non so se ci andiamo fino su in cima. Bisogna anche capire quando girarsi e tornare indietro, eh. E poi, ancora, vi potrà fare tutto il pezzo di cresta, ancora prima di arrivare giù. Sì, quindi, è... E' possibile anche scendere! E' possibile anche scendere! E' possibile anche scendere! Sì, ovviamente. E' una caduta stupenda. E... Scenderemo giù... Fino a stradone... E poi facciamo un sentiero che porta giù la Mendatica. Quello che passano i mezzi ai boschi. Eccoci qua! Siamo ritornati al punto di partenza. Adesso in teoria dovremmo fare un sentiero che è lì sotto. Sperando che sia abbastanza umano, perché io ho qualche annetto che non lo faccio, eh. Forse il sentiero c'è ancora, se qualcosa si vede. Sì. 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 eccoci qua ferramo lassù